L'attività che si innesta ampiamente nel nostro programma elettorale è di valorizzare San Cataldo come città del centro Sicilia. L'organizzazione di questo evento darà la possibilità a tanti concittadini di poter intanto visionare la qualità dello sport praticato, ma contestualmente darà la possibilità a tanti appassionati di motorsport che provengono da tutta la Sicilia di poter visitare non solo San Cataldo ma anche questi paesini in cui si svolgeranno le prove speciali, quali Bombeziere e Mondedoro. Tra l'altro una di queste prove speciali partirà proprio da Palo, da Borgo Palo, in cui sarà possibile visionare quella che è l'archeologia mineraria di San Cataldo, i due castelletti che ancora esistono e pienamente funzionali nell'ambito del nostro territorio e il Borgo stesso che noi intendiamo rivalorizzare in termine turistica nei prossimi anni. Riteniamo che questa iniziativa che noi abbiamo sposato in maniera positiva e di buon grado darà una possibilità anche di ritorno economico per le nostre attività. Ci aspettiamo tanta gente che avrà modo di poter visitare la nostra San Cataldo ma l'intero territorio del centro Sicilia che fino ad oggi è stato poco valorizzato.